buongiorno siamo l'orchideria adesso vi faccio vedere un po di roba fiorita adesso per natale qui vedete degli uncidi un cherry baby qualche catreina dendrobium nobile quelli sopra sono i cibini un cascade questa è una maxillaria picta qualche piccola catreia zigopetulum la painter delict colmanara painter delict questi sono dei uncidi un ticlo e molto profumati un po di cimbidium c'è ci sono un po di colori non tanti e se questo bianco giallino rosa poi c'è rosa più scuro di là andiamo dall'altra parte qualche vanda che comincia a fiorire su tutte bocciolate appunto qui c'è ancora zigopetrum mini catlei e questo è l'epidendro floribundum il cimbidium cascade il bulbofilo merisabetan ecco questo è un altro colore di cimbidium questi sono tutti i twinkle di vari colori che stanno fiorendo sempre zigopetrum bulbofilo merisabetan catlei e ancora twinkle dappertutto qui sono le polenopsis questo è una greco me burneum vedete profumatissimo di notte le polenopsis in tanti colori queste qui sono le compatte quelle che restano basse quelle sono le classiche quelle un po più alte questo è il dio d'oro quello profumato qui ancora delle mini ecco queste sono tutte polenopsis adesso andiamo di là ecco qui vedete le zattere levanda questa lavanda lamellata questo neppi dentro un po perché sta fioriscono adesso appunto vanda vanda lamellata questi sono proprio pedi un cd un zappi un cd monustum questo no questo neocali non è l'orchidea qui sono tutti i proprio pedi questo è sempre un elizabetan elizabetana ancora proprio pedio questi sono quelli da freddo e poi ci sono anche quelli da caldo ancora elizabetan ancora twinkle e questi sono ancora polenopsis tutte polenopsis vedete proprio pedium queste sole giattere levanda sempre pidendrum porpas è una miniatura che fa un sacco di fiorellini piccolini si riempie di fiori praticamente qui dentro c'è un vasetto e la pianta ha inglobato tutto il vasetto queste sono delle brassie queste sono ancora dei twinkle proprio pedi luci bidium ecco qui c'è delle braccia ancora la in fondo un po di cb di un e dalla parte di là abbiamo ancora aspettate che guardiamo di qua bra se zigo petro twinkle qui sono tutti ci invidio di vari colori ancora twinkle braccia e uccidio sherry baby pidendo frullibundum qui c'è delle vinica 3 e niente qui sono tutte giattere che questa adesso vi faccio vedere questo è l'opera di e mondo è questa porta qua con sulle zattere adesso siamo un po spoglia che arriva la primavera riempiremo tutto ecco detto dove appare qui ha fatto questa porta qui per appena le zattere vedete questa è opera della l'artigiano il mondo ok corrono piante per natale ne abbiamo tante ecco qui questi invece sono i adesso vi faccio vedere i dendrobium pirardi che cominciano a dare il riposo ah ecco questa è la lady hansel questa è l'angels sandriana invece questa è l'angels classica vedete che rosa mentre la sandriana e bianca con la bella rosa vedete l'ipirardi che cominciano a perdere foglie e comincia le foglie diventare brutte quelli appesi sono tutti i pirardi e adesso è ora di cominciare a non bagnare più perché adesso prenderanno tutte le foglie completamente perché natura hanno il periodo di riposo e resteranno con i rami nudi questi sono ancora pirardi quelli invece sono dicesi anche loro più rischio anche loro vanno riposo e finiscono poi primavera queste sono tutti i pirardi e anche tutti quelli là in fondo sono tutti i pirardi che stanno adesso appunto cominciando alle foglie diventa brutte quelle perderanno e rifioriranno poi in primavera ok arrivederci